o brasiliano fatti inquadrare prima però non mi posso fare inquadrare perché è bravo non attaccare subito la gente capisce che allora ascolta mamma io prima prima voglio dirti due cose uno io ti rispetto perché so che sei un bravo ragazzo due però cosa sono te pagliacciate che stai facendo con il cassetto 27 quando siete tutte e due falsi che vuoi di la verità al tuo pubblico non lo so la domanda qual è la domanda è perché sei così falso io so farò io vi faccio vedere quello che voglio innanzitutto perché questo è uno show siccome siccome voi siete i miei fan io ti faccio vedere quello che mi pare a me poi se non vuoi seguirmi mi segui sennò vai a seguire c'è stato è uno show il mio è io sono uno show vivente io sono uno show business io sono uno show man capito sì ecco quindi poi un'altra domanda in che reparto e reali di e io le bibbia non ci sono mai stato amico mio quando la tua domanda che cosa mi vorresti dire dimmi volevo chiederti visto tu hai detto di essere stato in casa dove stavi tu dove stare le bibbia invece io non ho detto che stavo le bibbia che non si risponde mai una domanda con un'altra domanda no no io siccome tu mi hai chiesto io ti ho risposto io a ribida non ci sono passato intervista hai detto di essere stato nel carcere diretti che giusto non mi ricordi se non ti ricordi se lo dici devi ricordare che io ho fatti tutti tranne che le bibbia amico mio tutti tranne che le bibbia dedica la verità io penso sono stato pure a cività vecchia ma se tu mi chiedi a cività vecchia a quale braccio sei stato io non me lo ricordo ad esempio capito però sono stata a via d'alquigna via aurelia nord a tutti e due capito dove vuoi arrivare dimmi dove vuoi arrivare nata che riesco abbattendo la faccia che stai a maschera pure la voce no dove vuoi arrivare a dirmi ma tu puoi fare il malavito la gente nessuno qui ti sta minacciando nessuno che puoi fare innanzitutto allora ascolta massimiliano tu innanzitutto ti stai oscurando il viso stai oscurandoti la voce mi dici a nebbia non venire a parlare con me che tu sei storia ma io faccio i libri ascolta me tu fai i libri di topolino fai oh tu fai i libri di topolino fai oh le cazzate tu le puoi dire tu fai i libri di topolino amico dio tu fai i libri di topolino tu fai le interviste tu ti chiami due ore prima con 17 27 mila romani che siete di ma la gente di milano di torino bambocchino a noi tu qual è il tuo problema qual è che io mi chiamo con lui il tuo problema qual è il tuo problema qual è che il mio problema è che voglio far capire a roma intera l'italia intera che tu non sei brasiliano sei semplicemente un pagliacino io sono un pagliacino amico mio ma il pagliacino che ti sta mettendo la faccia tu che sei un uomo vissuto e mi stai parlando da da un telefono oscurato ti stai oscurando anche la voce la mia voce è più pagliaccio io te stupido è sopra perché ti faccio sopra e non ti faccio neanche parlare come è stata sciocco 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 ascoltami mi sto dicendo una cosa come faccio chi è stupido come fai a dire che la mia voce è oscurata stupido ma la tua faccia è oscurata tu sei tu c'hai la fascia da gas oscurata stupido tu sei un stupido quindi chi è il pagliaccio io te questi argomenti da ragazzino come elia 17d no no amico mio io io ti do anche l'indirizzo di che cosa stupido non mi ho sentito spiegalo ai tuoi ai tuoi fan che cos'è il g9 primo piano spiegaglielo tu a me mo ti spieghi io te che me sa che c'è stato spieghi io te io no io no io ci sono stato ma mi sa che lì c'è stato te spieghi io e se non ci sei mai fatto che cos'è il g9 primo piano spieghi io te mi sa che mio padre si è fatto dieci anni a brutto infame fracico mio padre si sta a fare quattordici alle bibbia a schifo dopo hai capito schifo a schifo dopo schifo mio padre si è fatto dieci anni alle bibbia mio schio quattordici brutto schifo e mangiare il mio piano a g9 primo piano che è stato te e tutta la famiglia tua capito ma te hai appena detto tutto padre è stato quattordici anni a g9 primo piano c'è stato tu la tua famiglia brutto infame capito vuol dire che tuo papà cantava più di quelli che vanno padre canta tuo padre canta però perché stai diventando tutto rosso perché vuoi fare vuoi fare vuoi fare il duro io ti rompo il culo che non lo faccio il duro io qualcuno lo faccio il duro come con il tito due schiaffi ti divido a metà scena di merda come fai bocchino a me ciò mi fai un bocchino a me centimetri che c'hai di c'è rotto e mezza le gambe ma se nemmeno ti fa inquadrare ma come fai a darmi due piste se nemmeno ti inquadri non c'ha le palle di inquadrarti stupido ma come fai sai cos'è non puoi arrivare a me non puoi arrivare a me stupido se nemmeno ti sta inquadrando mostra la faccia stupido a remolino stati un attimo allora non parlare sopra così la gente non capisce quello che faccia idiota 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 tu hai imparato queste sei l'ignoranza solo questo è bravo solo questo invece tu hai imparato a nasconderti nella vita a te ti ricordano per il video che sei su youtube tu hai imparato a nasconderti nella vita stupido tu che cosa hai imparato nella vita a nasconderti va a cacare va oh ho imparato a nasconderti nella vita mi nasconderti eh io sono sempre questo sono in 15 milioni che mi spiega nella tua vita ci ho sempre messo questo io nella faccia la faccia sempre voi siete abituati a nasconderti a nasconderti eh? neanche nelle viette stai si siete abituati a nasconderti eh? Tana? Tana per lo stupido di Milano? Perchè di Milano? Perchè di Milano? Perché di Milano? Per lo stupido di Milano Ma chi ti ha detto che io sono di Milano? Non lo so, lo stai dicendo tu Che cazzo ne so Io credo a tutto quello che tu mi dici Ma io non ti ho mai detto di essere di Milano Ma l'accento è quello probabilmente Ma io non lo so C'hai paura pure Tu sei talmente intelligente da riconoscere Uno di Milano, uno di Bergamo, uno di Brescia Tu non solo ti stai cagando sotto Di farti vedere Stai negando anche che tu sia di Milano Tu stai negando Anche di essere di Milano Perché hai paura che se io vengo a Milano Io ti faccio sparire, capito? Tu a Milano Hai messo la faccia con il naso sopra la Madonnina Non ho capito, scusami Sai che cos'è la Madonnina di Milano? Eh Io ti metto a testa in giù Con le due narici infilate dentro le due corone della Madonnina Addirittura Se volevo dare un appuntamento Fammi vedere come mi attacchi a testa in giù Fammi vedere dai Io ti sto dicendo di venire da Roma Stupido Che ti cagheresti sotto Vengo io a Milano Fammi vedere come mi attacchi dai Oh Oh brasiliano ma ascolta Ma prima ti facevi quattro botte Eri più tranquillo Adesso senza le botte sei più nervoso Come fai? Certo perché mi bruta il culo Ascoltami un attimo Io ti sto dicendo Vengo dove abiti Fammi vedere come mi attacchi a testa Fammi vedere Cazzo Vieni dove abito? Eh certo Eh ma con le NCC ci vogliono almeno 5 mila euro Io non ti preoccupare Io ti faccio vedere con che vengo dopo Massi non vieni con le NCC Ti faccio vedere io Ah e cosa vieni? Vai davanti alle palestri di Roma Per raccattare 5 ragazzini di 15 anni Che fanno fuggilato E vieni? Ti faccio vedere? Eh dai fammi vedere dai Io ti dico dove abito Ma tu ci ha coraggio di dimmi dove abiti Ma io non so dove abiti E io abito a Via Luici Bombici numero 30 Ma lo sa tutta Roma dove abiti Scusa Io ti aspetto quando vuoi Ma quando vuoi Dimmi dove abiti Che io ti faccio cambiare pure cazzo Stupido 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 Non usare termini incongruenti alla tua intelligenza